Benvenuti nel mondo degli orologi IMA. IMA è un marchio di orologi francese che ha una lunga storia, risalente al lontano 1948. Fondata da Henri Louis Belmont, l'azienda ha prodotto una vasta gamma di orologi, dalle collezioni sportive ai modelli militari. La qualità dei suoi prodotti è sempre stata al centro della sua filosofia aziendale, e questo si riflette nei prodotti di alta qualità che l'azienda produce ancora oggi. Negli anni 60 e 70, IMA è diventata famosa per i suoi orologi da immersione, tra cui il celebre modello Superman, che è diventato un'icona del design dell'epoca. Questo orologio era noto per la sua resistenza all'acqua e la sua capacità di resistere alla pressione a grandi profondità. Oggi, IMA continua a produrre orologi di alta qualità per gli appassionati di orologi in tutto il mondo. Uno dei modelli più famosi di IMA è il suo orologio da immersione Superman. Questo orologio è ancora oggi molto popolare tra gli appassionati di immersioni, grazie alla sua resistenza all'acqua fino a 300 metri di profondità e alla sua lunetta girevole unidirezionale. La cassa in acciaio inossidabile e il cinturino in gomma lo rendono anche molto resistente e adatto ad un uso quotidiano. Ma gli orologi IMA non sono solo per gli appassionati di immersioni. Il marchio offre anche una vasta gamma di orologi da pilota, tra cui il suo modello Fligraf Pilot. Questo orologio ha un design unico con una cassa in acciaio inossidabile e quadrante nero con numeri arabi bianchi. È dotato di un movimento automatico di alta qualità e ha una funzione di cronografo. Per gli appassionati di orologi automatici, IMA offre anche una vasta gamma di modelli, tra cui il suo orologio Heritage. Questo orologio ha un design vintage con una cassa in acciaio inossidabile, un quadrante bianco e un movimento automatico di alta qualità. È un orologio classico e sofisticato che si adatta ad ogni occasione. Grazie a tutti.